c'hai il barrette a mano eh? si c'erano il barrette, l'ho sdraiato qua, sono tornato adesso non c'è più perché il barrette non lo devi tenere a mano? ho capito ma... l'hai cazzafatto sparire? c'era una clip? oh ne ho visto, ne ho visto una, ne ho visto una dove? aspetta, aspetta che si ferma sto copiando, non c'è chi, devo solo fermare lì che cerca me, cerca sempre me non mi fa pensare che mi ho buttato 500 che ho buttato perchè? perchè? perchè quella lì... la lì aveva comparsa, la lì aveva comparsa, comparsa? non ci credo che lì ce l'ho fatto ma dove sta? che finestra sta? sta un palazzo, ma non quelli altissimi eh non quelli altissimi, ah quelli bassi, quelli medi quelli che ho pingato, mi pinga la finestra andiamo no, va un porco ecco l'ho visto è uscito, vuole pusharlo no no no, la clip ha registrato tutto quello che c'era nooo finiti i colpi, finiti i colpi del cecchino, porco dio eh, mi serve uno qua che mi dà la mano perchè ci muoio a sto giro eh, io sto arrivando cioè, su sto gioco qua ci si deve slegare per forza da soli, vero? che puoi legare e slegare anche da solo eh sì, ma ti puoi slegare un'altra persona? sì allora se lo sarà preso qualcuno no, ora che c'è stato solo io qua eh, come fai? ha sparito così? boh, io cazzo ce l'hai in mano? mmm, no ce l'avevi? in mano ce l'avevo eh, ho detto ce l'avevi in mano e però ero sdraiato qua ce l'avevo in mano insomma, l'avevi visto anche sì sì ragazzo è andato a mangiare non lo so non lo so la clip ce l'hai? eh no, ha registrato il desktop brava ah, io sono bloccato qua con questo cioè, se scendo mi fa se qualcuno esce da qua non entra più o almeno uno ma io sono entrato due volte sai che io non ti vedo più? ma tu stai dietro bro madonna che giocata che gli ho fatto è un grande, sei hai visto? sì